Il 1 aprile dovrebbe ripartire il servizio di trasporto marittimo intercostiero e tra le isole del Golfo di Napoli e Salerno, ma ancora mancano le autorizzazioni e non vi è alcuna certezza. A giugno dovrebbe riprendere il servizio del metro del mare anche nel Cilento, ma qui il bando ancora non è stato pubblicato. Tutto fermo sul fronte delle vie marittime, mentre crescono i flussi turistici con l'arrivo della primavera e le strade, soprattutto in costiera amalfitana, cominciano ad affollarsi. Anche per quest'anno, dunque, cittadini e operatori del settore con il fiato sospeso sul fronte del trasporto marittimo, nonostante proprio un mese fa la Regione Campania avesse annunciato la volontà di proseguire il servizio stanziando un contributo per gli anni 2023-2025 di 5.587.000 euro, a cui vanno aggiunti altri 870.000 euro per il piano di mobilità turistica. Al momento, per l'area nord di Salerno e per Napoli, c'è da affrontare anche il problema delle biglietterie, come ad Amalfi e Sorrento, dove si opera su deschi improvvisati. L'area più penalizzata resta però il Cilento, dove la procedura è più lunga, dovendo ancora espletarsi il bando. Una situazione che rallenta anche l'altro importante servizio marittimo che parte dal sud della provincia, e cioè il transfert Sapri e Eolie. Mormorie arrivano dagli operatori del settore turistico per l'impossibilità di programmare per tempo questa grande opportunità che viene offerta ai turisti di raggiungere via mare le principali località di attrazione. Ma il consigliere regionale delegato ai trasporti, Luca Cascone, tranquillizza. Ogni autorizzazione, ha detto, ha bisogno del nulla osta per la sicurezza della Capitaneria di Porto, che questa volta ha deciso di fare degli approfondimenti. Già da giovedì comunque daremo l'autorizzazione a quelle aree che non hanno impedimenti. Per quanto riguarda il Cilento, invece, il bando, con ogni probabilità, ha concluso Cascone, verrà pubblicato ad aprile.